Gli istituti scolastici del Vallo di Diano gestiti in regenza. Nelle scorse ore il già presidente del Consiglio d'Istituto, Carlo Maucioni, ha chiesto l'intervento dei consiglieri regionali Matera e Pellegrino affinché sostengano i tavoli decisionali della Regione Campania all'istanza delle comunità scolastiche del Vallo di Diano per la nomina di dirigenti di ruolo. Un appello che il consigliere regionale Corrado Matera ha subito raccolto assicurando il suo impegno per individuare possibili soluzioni, chiarendo però come tale situazione in parte determinata da una legge nazionale su cui la Regione non può intervenire, mentre per il caso specifico del Camera, come spesso accade anche in altri settori, si trovano difficoltà ad individuare i dirigenti disposti a scegliere il Vallo di Diano come sede. Accolgo, scrive Matera, con grande senso di responsabilità il disagio che mi è stato rappresentato dal mondo della scuola sulle ripetute reggenze negli istituti scolastici valdianesi. Tempestivamente è rappresentato agli organi competenti il disagio, è opportuno però precisare che gli incarichi dei dirigenti di ruolo o di reggenze vengono disposti in applicazione alla legge Gelmini 2011. La legge in questione è quella di conversione del Decreto 98 del 6 luglio 2011 su disposizioni per la stabilizzazione finanziaria in cui all'articolo 19,5 stabilisce che le istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore a 500, poi modificato a 600 o a 300 per i comuni montani e le isole e poi passato a 400 nelle modifiche del novembre 2011, non possono essere assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato. Le stesse scuole saranno conferite in reggenza a dirigenti scolastici di altri istituti. Matera ricorda nel contempo che gli istituti scolastici, come il caso del Camera che si trovano al di sopra dei 600 alunni, devono essere scelti dagli aventi diritto che, però ricorda Corrado Matera, non optano facilmente per il nostro territorio. Per ciò che riguarda invece gli istituti con meno di 600 alunni, suggerisce l'accorpamento che però dovrebbe essere definito entro dicembre 2021. Per il prossimo anno scolastico, assicura Matera, porrò con determinazione la questione sia pur nella consapevolezza che l'incarico va proposto dall'ufficio regionale ma accettato dal dirigente che ha diritto di scelta. L'attenzione dell'onorevole Matera è però massima, tanto da avere anche le idee chiare su come intervenire. Ritengo incomprensibile e contraddittorio, scrive Matera, che il Parlamento italiano abbia da un lato approvato con proprio provvedimento legislativo la strategia delle aree interne, riconoscendo particolare rilevanza al tema dell'istruzione e, dall'altro lato, con altre leggi, ha apportato disagi e limitazioni al mondo della scuola nelle aree interne. Matera annuncia di aver già interessato della problematica vissuta dalle aree interne l'onorevole Piero De Luca, chiedendo di valutare un provvedimento legislativo che consente il trasferimento nelle aree interne dei dirigenti assunti in altre regioni. È assurdo, sottolinea il consigliere regionale tegianese, che le aree interne registrino disagi in sanità, istruzione e trasporti, pur esistendo una legge che riconosce a questi settori massima importanza. Con determinazione porrò il problema nelle sedi nazionali per i settori indicati nella strategia delle aree interne. Come sempre, conclude Matera, la difesa della nostra terra e dei diritti essenziali dei cittadini rappresenta la priorità della mia azione politica.